Siamo con l'autore del gol del pareggio del San Marco Trotti, Antonio Borrino. Allora Antonio, il gol del pareggio cosa hai provato? Grande l'esultanza, bella partita. Due belle squadre, vi siete battagliati dal primo all'ultimo minuto. Sì, diciamo che oggi ha vinto lo sport qui a San Marco, sono affrontate due grosse squadre. Complimenti al Giuliano, veramente allenato al mio amico Marco Mazziotti, ho visto veramente la squadra forse più forte del campionato. Noi sicuramente non siamo da meno, abbiamo forse tenuto sempre noi il pallino del gioco in mano. Loro si sono difesi abbastanza bene, però alla fine penso che il pareggio sia stato il più giusto, anche se ai punti forse avremmo meritato qualcosa a noi, perché avevamo sempre noi la palla. Alla luce di quanto visto oggi sta Marco Trotti e da play-off conto una prima squadra come Giuliano, imbattuta, due belle realtà che si sono affrontate. Siamo due squadre imbattute, siamo da play-off, siamo una squadra che comunque dirà la sua fine a fine campionato e speriamo di entrare nelle prime cinque e poi giocarsi tutto alla fine. Voglio dedicare il gol a mia moglie, Antonella, che aspetto un bambino e forse la cosa più bella oggi è la propria persona.